Musica Amici del Tegli d'Artù, oggi ci troviamo a Spotorno in Liguria per consegnare un altro bollino all'Hotel Premuta. Venite con noi! Spotorno, un albergo che ama e accetta gli amici ai quattro zampe e lo mettiamo in maiuscolo, davvero li accettiamo Roby, vero? Certamente Noi alle spalle abbiamo la vostra spiaggia dove non possono accedere ma siamo su questa terrazza dove qua tranquillamente possono stare I padroni possono stare sugli lettini, i cani possono stare qua, non hanno nessun problema se hanno bisogno abbiamo ciotole d'acqua, quello che gli serve eventualmente e possono accedere qua Possono accedere ugualmente anche al ristorante, al bar, noi li teniamo nelle sale comuni, nel giardino esterno, non ci sono problemi E' l'unica cosa che sulla spiaggia no, non siamo attrezzati per avere il cane sulla spiaggia Circa a 900 metri, un chilometro da qua c'è una spiaggia dove possono accedere i cani e tante volte prendono la camera qua e poi li portano magari per qualche ora lì e il resto della giornata la passano sulla spiaggia nostra Lì dipende come uno si vuole organizzare Quante stanze avete a di vita? Abbiamo tutte le stanze dell'albergo, sono soltanto 21 e in tutte il cane è accettato Il cane qui non paga nulla, è accettato normalmente, se hanno delle esigenze particolari ce lo dicono, non abbiamo mai avuto nessun problema A parte una volta un cane che mi ha roschiato in coprile Ma va bene, però normalmente abbiamo visto che i cani abituati a girare sono generalmente educati, sono forse peggio padroni Come ti sei comporata con i rosicati in coprile? Non può capitare dai Sì, non è stato corretto perché non me l'ha detto Ah no? È partita al mattino e l'abbiamo trovata, però va bene, succede, niente, abbiamo buttato via perché era proprio il copriletto, lenzuolo, sottobate il coprile Si è proprio divertito Erano due cani, secondo me li hanno lasciati forse un po' troppo da soli I cani hanno bisogno comunque ogni tanto di essere considerati, magari puoi lasciare qualche ora Però la maggior parte delle volte non è mai successo niente Siamo sempre stati, non abbiamo mai avuto problemi da nessuna parte, né hanno litigato mai tra di loro, né con la gente Abbiamo avuto cani da modello Mignola, Alani, Terranova, qualunque cosa, non abbiamo mai avuto problemi Tu lo sai che adesso che ti consegniamo il bollino delle teli dell'artù che lo andrai ad applicare Chiameranno, sappiamo che c'è il bollino delle teli dell'artù quindi noi veniamo senza problemi, sappilo, sappilo Non abbiamo paura di quello, abbiamo avuto qualunque tipo di animali Questo te lo consegniamo, mi raccomando, lo applichiamo, c'è il sito proprio sul nostro portale Come albergo che accetta davvero gli amici a quattro zampe Ciao, ciao Ciao, ciao